Il maltempo sull'Italia causa nove vittime nelle Marche, si salva una coppia di friulani in viaggio di nozze a Senigallia, uscita dal ristorante poco prima che il fiume Tracimassa, Sagrado, salvato un migrante dalla piena dell'Isonzo. Vince decine di migliaia di euro giocando online che non dichiara quanto chiede e ottiene reddito di cittadinanza. Un 34 anni di cono di Rosazzo non è però sfuggito ai controlli della finanza, patteggio un anno due mesi. Gli operai di una cooperativa di Polmanova hanno smarrito l'urna con le ceneri di una defunta. Il Tribunale di Venezia ha condannato l'azienda a risarcire due figlie della donna con 40.000 euro. Un gruppo di studenti dell'Università di Udina ha realizzato un aeromodello molto performante utilizzato nella simulazione di una missione umanitaria per il trasporto di sacchi di sangue. È stato premiato a livello nazionale. Allenamento all'ora di pranzo per l'Udinese in vista dell'Inter. Per due volte ha affrontato i nerazzurri con più punti in classifica in altre tanti li ha battuti. Beto torna titolare. Dubbi a centrocampo. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Telefriuli. In apertura la pagina del maltempo. la tragedia soprattutto nelle Marche dove si contano i morti. Nove quelli accertati. Per questa alluvione sani e salvi due friulani, una coppia di sposi in viaggio di nozze che è riuscita a uscire da un ristorante a Senigallia prima che il fiume trascimasse. Le abbiamo sentiti allora ecco il servizio. Hanno visto il fiume ingrossarsi e sono riusciti ad andarsene prima che la situazione precipitasse. Roberto Pedi e Paola De Mario stavano trascorrendo l'ultima tappa del loro viaggio di nozze dopo aver visitato Franciacorta, Lange e Toscana. Proprio nelle Marche si sono trovati davanti al violento acquazzone prima di arrivare a Senigallia per cenare. Questo è il racconto dei concitati momenti direttamente vissuti dalla voce di Roberto. Verso le dieci e mezza si è cominciato a vedere del trambusto perché il personale del ristorante è andato verso le finestre a vedere cosa stava succedendo. Proprio fuori dal ristorante passa il fiume che va verso il mare che arriva dalla montagna ed è incanalato in queste sponde di cemento che sono anche un po' più alte della terra e improvvisamente l'acqua si è alzata tantissimo e hanno cominciato ad arrivare anche tronchi, rami e tutto quello che il fiume trasportava. Proprio all'esterno del ristorante c'è un ponte in ferro che collega le due parti della città e lo stesso è stato divelto dall'ondata di piena. Il personale del ristorante ha consigliato di lasciare la zona perché l'acqua cominciava a tracimare e nel frattempo la protezione civile stava presidiando i ponti per non attraversarli. Abbiamo guardato un po' sui social, c'erano gli inviti a non uscire di casa soprattutto agli abitanti di Senigallia e noi sinceramente siamo riusciti a prendere la macchina, a tornare verso Numana con ancora del maltempo ma insomma sani e salvi. Il maltempo non si è fatto attendere anche nella nostra regione, un violento nubifraggio si è scatenato in particolare nella provincia di Gorizia causando l'ingrossamento dell'isonzo che ha minacciato l'abitato di Sagrado. Salvo un migrante che aveva trovato riparo sotto un pilone del ponte. Facciamo il punto di questa situazione. L'acqua scorre impetuosa facendosi strada tra la vegetazione. È la forza del fiume Isonzo che oggi ha raggiunto i 6 metri d'altezza. Il picco Sagrado all'altezza del ponte sulla strada regionale 305. È lì che questa notte un migrante che aveva trascorso la notte bivaccando sotto uno dei piloni che si è fatto sorprendere dall'ondata di piena. Fortunatamente dopo l'allarme dato da un passante il giovane è stato tratto in salvo dai vigi del fuoco. Ad alzare il corso d'acqua sono state le abbondanti precipitazioni delle ultime ore ma anche l'apertura di una diga nella vicina Slovenia. Sempre a Sagrado la protezione civile è dovuta intervenire in due abitazioni per allagamenti al primo piano. Con l'impiego di pompe a spirali i volontari hanno tolto l'acqua in otto stanze delle due case. Problemi anche a Sandorligo dove la struttura operativa regionale per l'emergenza sanitaria ha tratto in salvo un anziano che causa del blackout causato dal maltempo non era più in grado di ricevere l'ossigeno salvavita. Il maltempo abbandonerà la regione durante la notte quando cesserà anche l'allerta meteo. Domani affluirà aria più fredda e stabile che porterà un brusco cale delle temperature, una sorta di anticipo d'autunno. Il maltempo ha raggiunto Udine attorno alle 18.30 quando un violento temporale con vento forte si è abbattuto sul capoluogo friulano facendo precipitare a terra anche grossi chicchi di grandine per alcuni minuti. I canali e le roggie della città si sono riempiti d'acqua, diverse arterie si sono allagate a causa della copiosa acqua piovana. Allagamenti si sono verificati anche in alcuni padiglioni della Santa Maria della Misericordia di Udine parliamo dell'ospedale udinese. Il maltempo in questi minuti si sta spostando nel Cividalese quindi verso la Slovenia. Queste le immagini appunto degli allagamenti che si sono verificati anche all'interno dell'ospedale. Voltiamo pagina. Non dichiarava le vincite online nelle chiedere il reddito di cittadinanza può infatti costare molto caro. Do sa bene un friulano che ha patteggiato un anno e due mesi di reclusione davanti al Gup di Udine. Sentiamo. Prese il reddito di cittadinanza ma nell'Ise non dichiarò quasi 38 mila euro di vincite online. Patteggia un anno e due mesi di reclusione. E la pena sospesa dalla condizionale applicata dal Gup di Udine e Maria Rosa Persico a un 34enne di corno di rosazzo scoperto dalla guerra di finanza di Cividale. L'uomo che nell'arco di quasi due anni ha ricevuto dall'Inps oltre 16 mila euro presentò la domanda per il reddito di cittadinanza nel 2019. Nella dichiarazione ISEA legata però non dichiarò vincite su conti di gioco online per quasi 29 mila euro complessivi. L'anno successivo omise nuovamente di dichiarare vincite per quasi 9 mila euro. Somme queste che se fossero state dichiarate non gli avrebbero consentito di ottenere l'aiuto economico. Da qui l'imputazione per truffa ai danni dello Stato. Gli operai di una cooperativa di Palmanova smarrirono le ceneri della madre. Il Tribunale di Venezia ha condannato l'azienda a risarcire le due figlie con 40 mila euro. Servizio. La cooperativa friulana smarrì le ceneri della cara estinta. L'azienda è stata condannata a risarcire le figlie con 40 mila euro. Lo ha deciso il Tribunale di Venezia che ha riconosciuto la lesione del diritto inviolabile al culto dei difunti. La vicenda risale al 2015 quando gli operai dell'Arco Servizi di Palmanova che aveva in gestione i cimiteri del comune di Mira vicino a Venezia esumarono a gambarare i resti del padre delle due donne per spostarli nell'ossario. Alla consegna le figlie chiesero anche l'urna nella quale erano contenuti le ceneri della madre temporaneamente sepolte nella tomba del marito in attesa di riunire i genitori nell'ossario. Dell'urna però nessuna traccia. Per scavare gli operai utilizzarono una ruspa e con tutta probabilità nell'operazione il manufatto si ruppe e le ceneri furono disperse nella terra smossa. Comune cooperativa si sono quindi rimbalzati le responsabilità. Il Tribunale veneziano ha ritenuto non responsabile l'amministrazione locale dal momento che nel programma delle esumazioni fu indicata la presenza dell'urna, peraltro segnalata anche da una pergamena marmorea posta sulla lapide. È invece condannato la Coop Friulana che non aveva avvertito gli operai della doppia sepoltura. Oltre al danno morale subito dalle due donne che sarà risarcito dalla compagnia assicurativa, la Coop dovrà rifondere anche 7.000 euro di spese legali. La cronaca si ribalta su un fianco al camion sul quale sta lavorando e un operaio rimane ferito in fortuna sul lavoro alle 14 di oggi in un cantiere a Fusine durante lo sgaiamento del fondo del rio Prode e del rio Apnen, un operaio di 47 anni di Gemona, dipendente della ditta De Monte Servis. Per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Tarvisio durante il carico di materiale roccioso sul camion ha riportato numerose contusioni dovute al ribaltamento laterale del mezzo. Soccorso dal personale del 118 è stato condotto all'ospedale di Tolmezzo, non è in pericolo di vita. Due furti sono stati messi a segno in altre tante scuole di Pozzuolo del Friuli e San Giorgio di Nogaro. Spariti computer portati, tablet, soldi e monettine contenute nei distributori automatici. Indagano i carabinieri. Servizio. Due scuole sono state prese di mira dai ladri che in entrambi i casi erano alla ricerca di materiale informatico e spiccioli. Il primo colpo è stato messo a segno alla scuola primaria Ellero di San Giorgio di Nogaro. Qui il dirigente scolastico ha denunciato ai carabinieri il furto di due computer portatili del valore di 200 euro. I ladri sarebbero entrati nella scuola di notte attraverso le frazioni di una finestra. L'altro colpo è stato invece messo a segno alla scuola dell'infanzia di Terenzano di Pozzuolo del Friuli. I malviventi, anche in questo caso forzando un infisso, dopo essersi introdotti nel plesso, hanno sottratto dei tablet e le monette contenute nel distributore automatico che eroga le bevande. Il danno è ancora da quantificare. Anche in questo caso è stata asporta denuncia ai carabinieri. Un importante quantitativo di materiale archeologico databile tra la metà del IV e III secolo a.C. è stato sequestrato dai carabinieri a Trieste. I reperti sono stati recuperati grazie alla segnalazione pervenuta da un'anziana ultra novantenne residente del capologo Giuliano che l'aveva rinvenuto all'interno della propria abitazione, in un armadio che non veniva aperto ormai da anni, dove il defunto marito, deceduto più di 30 anni fa, teneva effetti personali. La donna è rinvenuta a un vero e proprio tesoretto, otto manufatti che l'anziana, ritenendo potersi trattare di materiale di interesse storico-culturale, ha segnalato ai militari dell'arma. Tenta di salire con il SUV per le scale che portano al castello di Muggia, ma resta bloccato. Serato è un po' movimentata quella di ieri a causa di un'automobilista che per cause in corso d'accertamento dei carabinieri ha causato diversi danni, soprattutto in Calle Verdi, che è rimasta senza luce per diverse ore. Danneggiati anche i portoni risalenti al 600, sul posto oltre i carabinieri, polizia e vigili del fuoco. Ancora cronaca, è stato aggredito da una o più persone nel giardino di casa, un quarantenne triestino, noto nel mondo della ristorazione, è stato urgentemente trasportato con l'ambulanza all'ospedale Cattinara di Trieste, ha riportato un trauma cranico ed è tenuto sotto osservazione all'uomo che alle 21.30 di ieri sera era solo, è stato teso un agguato nell'abitazione di Duino Aurisina, è stato colpito la testa con un corpo contundente. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Aurisina sono in attesa di poterlo sentire non appena sarà in grado di parlare. Difficile al momento avanzare l'ipotesi sul perché di quell'aggressione, del caso si sta occupando il PM di turno Maddalena Kerja. E andiamo ora alla politica, oggi in regione Matteo Renzi che ha fatto il punto della situazione politica lanciando le proposte per risolvere la crisi energetica e poi per far crescere l'economia. Obiettivo del terzo pollo il 10% per poi proseguire con il governo Draghi. Andrea Pierini. Io credo che ci siano solo due ipotesi, la prima è che vinca la destra e allora va il governo Lameloni, la seconda è che noi facciamo il 10% e allora al governo ci va Draghi, non c'è altro, quindi non ci sono strani inciuci o governa Lameloni con la destra e noi saremo all'opposizione o c'è un governo istituzionale con Mario Draghi e questo però impone che al terzo Polo, Azione, Italia Viva arrivi almeno il 10%. È iniziato da Trieste ed è proseguito a Udita il viaggio in Friuli, Venezia e Giulia di Matteo Renzi. Il focus ancora una volta su un'energia con le misure di urgenza per abbassare il costo e poi un tema di prospettiva. Perché se diciamo di no al gas, il gas se lo prendono i croati in Adriatico. Non solo il gas ma tanti esempi sottolineando che a forza di dire no agli impianti si batte i denti per il freddo, quindi sull'immediato soluzioni di natura economica finanziaria di ristoro però sul medio periodo basta con la cultura dei no, la cultura dei verdi italiani dice no a tutto, i verdi tedeschi stanno dicendo sì al nucleare di nuova generazione. Un passaggio poi anche sul caso Varsila allargando però il quadro. C'è proprio un problema fondamentale, noi questo territorio lo destiniamo ad essere attrattivo di nuovi investimenti o continuiamo semplicemente a raccontarci il grande passato? Per questo ci vuole lo sblocco di tutto ciò che riguarda una visione del paese e non soltanto singoli interventi. Le prossime elezioni politiche non fermeranno l'impegno sul fronte del contrasto al caro energia. Ci sarà continuità di governo nazionale, afferma il presidente della regione Massimiliano Fedriga. Per il governatore restano due le misure urgenti, destinare risorse pubbliche per tamponare gli aumenti dei prezzi al tetto al prezzo del gas deciso a livello europeo per bloccare la speculazione che sta avvenendo nella borsa di Amsterdam. Sentiamo. Intervenire subito e i tempi nonostante le elezioni ci sono. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga lancia l'appello al presidente del consiglio Mario Draghi per il caro energia ad attuare subito gli interventi emergenziali. Bisogna agire immediatamente attraverso due proposte che abbiamo formulato, sicuramente quello del utilizzo di risorse pubbliche per andare a tamponare l'aumento di prezzi, dall'altro in contemporanea deve esserci il tetto al prezzo del gas deciso a livello europeo. Devo dire che più paesi oggi rispetto all'inizio sono favoribili a queste ipotesi, ci sono ancora degli scogli da superare, ma oggi siamo in ballo rispetto a una speculazione che sta avvenendo nella borsa di Amsterdam che è insostenibile per il sistema produttivo europeo. Sul nucleare invece non c'è una contrarietà assoluta, anche se una nuova centrale richiederebbe diversi anni per la messa in funzione. Beh, ci vorrà ancora del tempo, sono favorevole però a differenziare gli approvvigionamenti energetici. È chiaro che dobbiamo mettere due piani in campo, cioè quello dell'affrontare l'emergenza immediata, quello del strutturale per affrontare in prospettiva l'approvvigionamento energetico per il paese. Luce accesa solo dove necessario, a temperature più basse durante le funzioni religiose, sono alcuni degli accorgimenti seguiti dalle parrocchie della diocesi udinese per contenere i costi dell'energia. Sentiamo. Si prospetta un inverno all'insegna del risparmio energetico anche nelle chiese della diocesi di Udine, dove le singole parrocchie decideranno come contenere le spese a seconda del tipo di impianto utilizzato per riscaldare. Sicuramente, spiega Monsignor Luciano Nobile, arciprete della Cattedrale Vicario Urbano di Udine, anche noi dobbiamo comportarci come bravi padri di famiglia. Per trascorrere un'ora insieme in chiesa nel periodo più freddo, il riscaldamento può essere acceso al minimo. Monsignor Nobile rassicura che i locali destinate a catechismo saranno riscaldati come sempre o al massimo con un grado in meno e saranno concentrate più turnazioni nella stessa giornata. Sono previste riduzioni anche per quanto riguarda l'illuminazione. Nelle chiese le luci rimarranno accese solo durante le celebrazioni, nei punti indispensabili dei principali luoghi di culto che rimangono aperti durante la settimana e nelle giornate più buie. Al momento nelle parrocchie non sono state diramate indicazioni su specifici provvedimenti da adottare perché i singoli sacerdoti stanno già attuando misure a seconda delle necessità, tanto più che le chiese principali rimangono aperte solo alcune ore, conclude Monsignor Nobile, evidenziando tra l'altro che il numero delle messe è ridotto da tempo. Il piano per l'agricoltura, l'avvio della Valle dell'Idrogeno e poi start-up e scuola, questi temi al centro dei lavori della Giunta regionale di oggi. Migliorare la competitività e la resilienza del comparto agricolo, garantire la remunerazione dei produttori, incentivare i giovani alla qualità con il legame prodotto-territorio e poi migliorare le performance climatiche sono alcuni degli obiettivi del piano per l'agricoltura 2023-2027 che la Giunta, su proposta dell'assessore Stefano Zagner, ha approvato e che potrà contare su 227 milioni e mezzo di euro. Prende pieno anche il progetto della Nord Adriatica a Idrogen Valley, tra Friuli Venezia e Giulia, Slovenia e Croazia, con il via libera dell'esecutivo a partecipare al bando europeo. La proposta è stata firmata dal presidente Massimiliano Federiga e dall'assessore Fabio Scocci Marro. L'obiettivo è sviluppare nel medio e lungo periodo la Valle Idrogeno Nord Adriatico, fondata sul consolidamento degli ecosistemi idrogeno locale e su una maggiore integrazione e potenziamento della catena del valore in chiave trasfrontaliero. I fondi, che potranno arrivare, sono 25 milioni di euro per la produzione di almeno 5.000 tonnellate di idrogeno all'anno. Attenzione anche alla scuola, con la delibera del vicepresidente Riccardo Riccardi, che dall'avvio al progetto e allo schema di convenzione, alunni difficili in classe, indicazioni teoriche e strategie operative per supportare gli insegnanti e, su proposta dell'assessore Sergio Emidiobini, 1,23 milioni di contributi a fondo perduto a favore di start-up e spin-off della ricerca costituita dai giovani che non hanno ancora compiuto 40 anni di età. Il Friuli Venezia Giulia piange Liccio Damiani, scomparso nel primo pomeriggio di oggi a 87 anni. Giornalista professionista e critico d'arte, negli anni aveva realizzato diversi volumi sull'arte del Novecento in Friuli, nonché numerose monografie e saggi su pittori, scultori, architetti. Tra tutti ricordiamo l'opera pubblicata nel 2001, Friuli Venezia Giulia e l'arte nel Novecento. Il giornalista è nato a Lussin Piccolo nel 1935, viveva a Udine negli anni, aveva pubblicato libri anche su altri generi, spaziando dalla narrativa alla poesia e libri di viaggio. Damiani, già capo servizio della RAI, aveva realizzato documentari cinematografici e televisivi e collaborava su quotidiani e riviste specializzate. Collaborò anche per la regione Friuli Venezia Giulia, in particolare sotto la presidenza dell'avvocato Antonio Comelli. Il suo contributo alla conoscenza della ricchezza artistica e culturale regionale due anni fa trovò il giusto riconoscimento quando Damiani venne insegnato del premio Epifania 2020 a Tarcento. La redazione di Telefriuli e tutta Medifriuli esprimono alla famiglia vicinanza e le loro sentite condoglianze. Il Ministero della Transizione Ecologica e l'azienda che gestisce i rifiuti nelle basi Nato, compresa quella di Aviano, si scontrano al Taro del Friuli Venezia Giulia. Vediamo come è andata a finire. Servizio. L'azienda tedesca che si occupa dello smaltimento dei rifiuti nelle basi Nato in Italia, Aviano compresa, vince la battaglia legale contro il Ministero della Transizione Ecologica. L'esito è stato deciso dal TAR del Friuli Venezia Giulia, che ha annullato il no ministeriale di rinnovare l'iscrizione della Logic System International all'albo nazionale dei gestori ambientali alla Camera di Commercio di Trieste. Il diniego risale a giugno, quando il rinnovo fu rifiutato perché è depositato in ritardo. Per i giudici, oltre a non tener conto delle proroghe dovute alla pandemia, il Ministero interpretò e applicò male la normativa. Nel caso del rinnovo sono dimezzati solo i tempi massimi entro i quali il Governo deve dare una risposta. Il Ministero, invece, ritenne di dover tagliare anche i termini di presentazione della domanda. Veniamo ai dati di oggi sulla pandemia. I nuovi casi sono 523, i ricoveri di terapia intensiva sono due, le persone ricoverate in altri reparti 116 non si registrano decessi. A proposito di sanità, è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di adeguamento impiantistico antincendio e riqualificazione del presidio ospedaliero di Gemona del Friuli, primo lotto per un importo di 3 milioni e 830 mila euro, interamente coperto dai finanziamenti regionali. Il Vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi fa sapere che l'intervento prevede la totale riqualificazione del terzo piano del presidio per l'attivazione di un reparto di riabilitazione intensiva gestito dall'Istituto di Medicina, Fisica e Riabilitazione Gervasutta. Il reparto accoglierà 16 posti letto di cardiologia riabilitativa, 16 di neurologia, oltre a tutti i necessari spazi accessori come palestre, locali dedicati a riabilitazione neuromotoria, logopedica, occupazionale e psicologica. Riccardi aggiunge poi che l'intervento comprende pure il completo adeguamento antincendio del terzo piano, la climatizzazione del terzo piano e del secondo, dove sono collocati i reparti su Apedip, oltre alla realizzazione degli spogliatoi per il personale sanitario aggiuntivo al piano seminterrato. C'è una notizia, poi torniamo anche sulla questione del maltempo, che è arrivata proprio in questi minuti, quella che sta colpendo la nostra Regione e che ha messo in ginocchio le marche, con cui abbiamo anche aperto il nostro telegiornale. A seguito della richiesta aggiunta alla Sala Operativa della Direzione Regionale Vigile del Fuoco del Friuli Mezzagiula da parte del Centro Operativo Regionale del Vigile del Fuoco, alle 18 è partito dal Comando di Udina, alla volta di Ancona, il modulo operativo di colonna mobile regionale dei gruppi operativi speciali. Il modulo, composto da 5 operatori, 2 mini escavatori, 2 mini pale meccaniche, 2 mezzi di supporto e 2 autoarticolati per il trasporto delle macchine operative, si sta recando al posto di comando avanzato di Senigallia, dove opererà a supporto della popolazione colpita dall'emergenza alluvione in località Pianello di Ostra. Voltiamo Pasina, tiene ancora banco a Pordenone Legge la polemica dopo lo sfogo del sindaco Ciriani a seguito dell'inaugurazione. I curatori scelgono la via del silenzio e tra gli autori c'è chi ammette che la cultura e gli intellettuali devono essere più incisivi. Servizio. Un po' come Sanremo, anche Pordenone Legge vive i suoi 5 giorni all'anno di grande splendore, ma nei quali non mancano le polemiche, a volte le code, altre gli ospiti, altre ancora i contenuti, come per l'inaugurazione di quest'anno, criticata e definita banale e piena di luoghi comuni dal sindaco Alessandro Ciriani. I curatori Gianmario Villalta, Valentina Gasparretti e Alberto Garlini hanno preferito non replicare, continuando a seguire le decine di eventi che tra oggi e domenica animeranno il festival. A cercare di mettere tutti d'accordo è lo scrittore Davide Rondoni, volto fisso, della Kermess. Penso che Silvia Vallone, che è una ragazza che conosco da sempre perché veniva nel mio studio quando aveva 18 anni per cercare ascolto, ha consigliato ai giovani di leggere un libro di poesie che è stato fatto grazie a due uomini, ha sottoscritto a Giuseppe Conte. Poi farle femministe, adesso fa abbastanza di moda e anche abbastanza così cool, diciamo. Il sindaco mi sembra abbia detto se dobbiamo trovarci a fare una manifestazione per dire cose ovvie è inutile trovarsi. Il problema ovviamente non è portare le leggi, è una manifestazione bellissima, io credo sia la più democratica che c'è in Italia, credo che sia un problema della cultura italiana, questo sì, che la cultura italiana ha bevuto in questi due anni qualsiasi cosa dettata dal potere, tranne rare voci tra cui sottoscritto, gli intellettuali non hanno fatto domande, non hanno fatto questioni, questo è un problema. Intanto ci attesa per un weekend ricchissimo di incontri con decine di big della letteratura, italiani e stranieri. Domani fare i puntati sul premio Credito Agricol Friuladria, la storia in un romanzo assegnato a Giumpa Lairi, polemiche permettendo. La vita poco noto di Gaia Aulenti, una delle più importanti designer al mondo, ora è racchiusa in un libro, presentato in anteprima a Pordino Nelegge, la donna nata a Palazzolo dello Stella è scomparsa dieci anni fa e è diventata un'icona femminile dell'architettura. Sentiamo. Delle sue opere iconiche di design si sa quasi tutto, ma della sua vita privata poco o nulla. Gaia Aulenti, nata a Palazzolo dello Stella nel 1927 e diventata uno dei punti di riferimento dell'architettura mondiale, e la protagonista del libro di Anna Rita Briganti, a lei dedicato, presentato in anteprima a Pordino Nelegge. Una grande donna che ha portato l'Italia in Italia, l'Italia all'estero, che ci insegna ad andare sempre avanti, a non farci tarpare le ali. Una storia inedita che è stato bellissimo raccontare, una delle poche laureate in architettura della sua epoca, soprattutto una delle poche che ha lasciato il segno. Nel decennale della sua morte nesce un ritratto sorprendente di una donna forte e rigorosa, ma anche passionale. È molto d'attualità, un aspetto di Gaia Aulenti che credo nessuno sappia, è stata partigiana. Nel momento in cui ci sono dubbi su Bella Ciao, su cos'è l'antifascismo, sul fatto che l'Italia è un paese antifascista, ha una costituzione basata sull'antifascismo, mi fa piacere ricordare che c'è un capitolo su questo. Il Friuli, dove ha mosso i primi passi, le ha dato il giusto imprinting. È nata qui da una famiglia con tante origini, ha scelto Milano come base, ha viaggiato, ha girato tutto il mondo. Cosa ha tenuto del Friuli? La concretezza, la forza, la capacità di fare. Una storia da leggere e scoprire di una Friulana forse troppo poco celebrata. Piazza d'Argento per l'Università di Udine, che con un gruppo di studenti ha costruito un aeromodello altamente performante. Si è simulato di impiegare un velivolo in una missione umanitaria per il trasporto di sacche di sangue. La premiazione avverrà domani all'aviosuperficie di Campo Formido, sede dell'Arizona 2001. Servizio. Vole in alto il lavoro di progettazione e di realizzazione dell'Università di Udine, che è guidata dal professor Luca Casals e con il supporto logistico dell'Associazione Arizona 2001, ha creato un aeromodello, secondo solo ad un altro Ateneo. Un lavoro durato mesi, un gioiello capace di volteggiare benissimo con i suoi soli 2 kg di peso e capace di trasportarne 6. In questo caso si è ipotizzato di far volare un velivolo in missione umanitaria con il prezioso trasporto di sacche di sangue. L'aeroplano pesa 2 kg a vuoto, è in grado di trasportarne 6 di kg, quindi tantissimo rispetto al suo peso, ha un'apertura all'area di un paio di metri e certamente può non solo essere trasformato in un aeroplano di grandi dimensioni, ma anzi può essere utilizzato così com'è, proprio come drone per il trasporto di sacche di sangue, di oggetti in luoghi disagiati. La festa per la vittoria inizierà stasera e domani l'Associazione Arizona 2001 di Campo Formidoro sulla sua avio superficie consegnerà un riconoscimento a questo splendido gruppo di ragazzi, perle dell'ingegneria meccanica made in Friuli. Orgoglioso il Presidente del Sodalizio, ospitante Gianfranco Sardeo. Vogliamo conferire questo premio perché abbiamo visto l'impegno che hanno approfuso durante tutto l'anno e raggiungere un secondo posto a livello mondiale per noi è fonte di orgoglio e visto che sono nostri partner in campo vogliamo fare questo presente a loro. Il team dopo questa bella affermazione si sta già organizzando per la competizione del 2024, obiettivo arrivare primi. Le Sette Meraviglie delle Friuli Occidentale è il titolo del documentario che sarà trasmesso stasera alle 21 su Telefriuli. Eccovi un assaggio. Alcuni scorci imperdibili della destra tagliamento sono al centro del documentario del giornalista Pier Giorgio Grizzo dal titolo Le Sette Meraviglie del Friuli Occidentale che Telefriuli trasmetterà questa sera, venerdì 16 settembre alle 21. Secondo l'autore, lo spicchio del mondo compreso tra i fiumi Livenza e Tagliamento è la parte meno conosciuta della nostra regione. Specializzato in divulgazione storica, Grizzo ha individuato sette sorprendenti meraviglie di questo territorio. La Contrada Maggiore, ossia il Centro Storico di Pordenone con la sua architettura rinascimentale, il Duomo di San Marco e il Museo Civico. Le Pozze Smeraldine di Tramonti di Sopra, un sito naturalistico ormai di fama internazionale. Il Campanile di Val Montanaia, simbolo delle Dolomiti friulane e teatro di leggendarie imprese alpinistiche. La Scuola del Mosaico di Spilimbergo, il secondo sito più visitato del Friuli Venezia Giulia dopo il Castello di Miramare a Trieste, allo stesso tempo scuola e percorso museale. I Magredi, ossia gli Ari di Suoli tra i greti di Cellina, Meduna e Tagliamento, un bioma quasi unico in Italia ed una delle più grandi steppe dell'Europa occidentale. La Valzemola, scrigno di tesori naturalistici, cascate, picchi dolomitici, diventato celebre in Italia grazie alle novelle dello scrittore ertano Mauro Corona. La Riva Destra del Tagliamento, la Rive Druate del Tagliamento, che potrebbe diventare un brand turistico, ispirato alla celebre Rive Gauche della Senna a Parigi, famoso ritrovo di artisti. Lungo questa direttrice si sviluppa un teorema di parrocchie e piccole pievi, da Gleris di San Vito a Pinzano, affrescate dai pittori della Scuola Tolmezina, da Giovanni Antonio da Pordenone e dai suoi allievi. Il documentario è firmato da Pier Giorgio Grizzo, autore di sceneggiatura e regie. Le riprese sono di Hermes Turrin. 46 anni dopo il terremoto che lo danneggiò e distrusse, torna nuova vita al campanile della chiesa di San Nicolò, Forgaria del Friuli, ieri inaugurazione con il primo suono delle campane. Molti cittadini di Forgaria sono nati e cresciuti senza mai vedere il campanile della chiesetta di San Nicolò, di cui dal settembre del 76 restava solo un moncone. La furia dei terremoti autunnali lo aveva irreparabilmente danneggiato e fu abbattuto per non essere mai ricostruito. Ma esattamente a 46 anni di distanza dalla scossa che distrusse ciò che era rimasto dopo l'orcolata di maggio, il campanile è tornato in piedi. Si tratta di un momento particolare perché è l'ultima opera ecclesiastica ricostruita dopo il sisma. Quindi abbiamo veramente la gente del nostro territorio, i miei predecessori e anche negli ultimi anni è stato ricostruito tutto quello che si vuole ricostruire, però di fatto rimaneva quest'opera da ricostruire. Si chiude un cerchio quindi di fatto lungo, più di 40 anni. Esattamente, diciamo che Forgaria è uno dei comuni che è stato più colpito, più disastrato durante il sisma. Rappresenta il completamento di un percorso che è anche quello che venne al tempo dichiarato come un percorso fondamentale. Quindi la ricostruzione prima delle fabbriche, poi delle case e poi delle chiese. Tra pochi minuti il notiziario sportivo ovviamente si parlerà di Udinese, di questo Udinese che sorprende e che affronterà l'Inter alle 12.30 domenica. I Nerazzurri che affronteranno l'Udinese con un punto in meno in classifica. In due casi l'Udinese aveva già vinto due partite sopravanzando i Nerazzurri. Beto torna titolare, c'è il dubbio però di Sammerzi. Vedremo tutto appunto nel prossimo notiziario sportivo. Ma non resta che salutarvi e ringraziarvi per la vostra cortese e fedele attenzione. Augurarvi buona serata a tutti. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.